Amiche e amici all'ascolto, eccoci alla seconda puntata di La voce dei libri, dove le parole prendono vita, il podcast inventato da Alberto Lori ed Enrico Ballantini. Dal thriller del nostro primo appuntamento passiamo al fantasy del secondo. L'autore è Alberto Levi Kessler, uno scrittore ancora poco conosciuto che proclama di scrivere libri che gli piacerebbe leggere. Il romanzo in questione, edito dalla rondine editrice, è Il giorno dell'Aquila. Ed ecco la Sinossi. Nei territori delle terre di mezzo, tra i rigogliosi boschi del Teganan e le tre grandi città di Tular, Advara, Acunigia e Imapura, l'ombra della conquista si diffonde lentamente dalle mura tenebrose del castello di ghiaccio, dimora dell'oscuro sacerdote di Akumbaru, Kaiman, e dei suoi odiati Mandohan. Il giovane Kaim, rimasto orfano dopo un tragico incidente, cresce in un branco di lupi, sulle sponde del Nadi, allevato insieme al suo amico Kord dal capobranco Gor e dalla sua compagna Aisha. All'età di sedici anni, Rishigat, il custode della profezia, lo chiamerà a sé per addestrarlo al combattimento e gli rivelerà di essere lui l'unico e il solo figlio dell'Aquila. Tra inganni e sotterfugi, amori appassionati, battaglie sanguinose e tornei epocali, Kaim è la compagnia dell'orso, spinti dal desiderio di riportare la pace nelle terre di mezzo, avranno un'affascinante avventura in un altro mondo, un'altra epoca, un'altra dimensione. «Sei il figlio dell'Aquila, figliolo», replicò con calma Rishigat. «Hai conquistato lo spirito dell'orso, hai bevuto il suo sangue, la tua forza è con te». «Per la verità è mancato poco che ci lasciassi le penne», obiettò il ragazzo con un filo di voce. Primo capitolo Il crepuscolo di Tular In alto, da qualche parte sulle cime degli alberi, il pica levò il suo verso monotono. Era una specie di cuculo che da qualche tempo aveva preso dimora nei boschi del Teganan. Di solito, mescolato agli altri suoni della foresta, il suo verso passava quasi inascoltato. Ma in quel momento Sukkar, mentre passava a cassetta sul carro lanciato di gran carriera lungo le tortuosità del sentiero, lo prese per un cattivo presagio. Volse la testa di lato per sbirciare la moglie seduta al suo fianco, ma non colse sul suo volto, concentrato nel governare i cavalli, ombra di inquietudine. Anukka, infatti, aveva accettato l'insolito compito di cocchiere con l'entusiasmo della neofita, senza chiedersi le ragioni della generosità del marito. La verità era che Sukkar voleva avere le mani libere di agire nel caso avesse dovuto difendersi dall'attacco dei mandohan di Kaiman. Per reprimere il brivido salitogli lungo la schiena, accarezzò con la mano sudata il legno dell'arco posato sulle ginocchia pronto ad essere imbracciato. Si girò di tre quarti per guardarsi alle spalle, ma a parte la nuvola di polvere sollevata dagli zoccoli dei cavalli e dalle ruote del carro, non vide traccia di eventuali inseguitori. Per un attimo incrociò lo sguardo limpido di Kaim, il figlio quattordicenne, seduto in fondo al carro con Kalina, la sorella più piccola addormentata tra le sue braccia. Tornando a sorvegliare la strada davanti a sé, Sukkar pensò con inquietudine all'immediato avvenire di Kaim. Anche se fosse riuscito a preservarlo dalle mani assassine del nero adoratore di Akumbaru, quel ragazzo era troppo bello e troppo magro per sperare di farne un guerriero. Ben diverso il cugino Mengui, il quale, nonostante fosse di un anno più giovane, era già strutturato come un torello. Aveva anche il coraggio di un leone, dal momento che dormiva saporitamente, abbracciato a una cassa di masserizie, incuranti dei sobbalzi e degli scossoni del carro. Eppure, sia lui che gli altri erano consci dei pericoli cui andavano incontro. Sukkar si portò una mano alla fronte per ripararsi gli occhi dai raggi radenti del sole. Il carro era sbucato in una radura, erbosa e soleggiata. Rimase incantato davanti all'improvvisa esplosione di colori. Il giallo carico delle ginestre faceva da contrappeso al verde dell'erba e al rosso delle macchie di papaveri sullo sfondo glauco del cielo terzo, senza nuvole. «C'è un ruscello laggiù. Vogliamo fermarci un momento? Forse i ragazzi hanno sete», mormorò Anukka con un cenno del braccio a indicare la striscia d'acqua lungo i margini della cintura d'alberi. Sukkar scosse la testa. «Ci disseteremo sul lago di Hailya. Solo quando vedremo Rishigat potremmo pensare di fermarci, anche a costo di sfiancare i cavalli». Anukka non obiettò. La mano dell'uomo percorse un breve arco e andò a posarsi sul ginocchio della moglie. Fu una stretta rapida e lieve in segno di tacito ringraziamento. Non c'era bisogno di spendere parole tra loro. Sposati da quindici anni, Sukkar e Anukka rappresentavano l'esempio vivente di un'unione felice senza ombre, almeno fin tanto che all'orizzonte non si erano addensate le nubi nere della tempesta. Le prime avvisaglie si erano avute l'indomani della morte di re Kamat di Tular. Il defunto sovrano non aveva lasciato i re di maschi, ma solo una figlia decenne, Angun, la cui madre era morta nel darla alla luce. Il consiglio del regno aveva nominato Mania reggente e tutore della principessa, nell'attesa che Angun raggiungesse la maggiore età. La decisione, quantunque saggia e oculata, aveva trovato un fiero oppositore in Val Mazzaro, signore di Imapura e governatore delle alte terre di Tular. Il principe, dall'indole fumantina, si era sentito scavalcato e messo da parte, nonostante fosse il governatore più anziano. Era stato proprio quel suo carattere instabile la ragione della sfiducia dei consiglieri e Val Mazzaro, a seguito di questo evento, aveva abbandonato rumorosamente la sala del consiglio, minacciando vendetta. Su Car delle terre basse e lo stesso Mania delle terre di mezzo, all'inizio avevano preso sotto gamba le lagnanze di Val Mazzaro, forse pensando che fosse sufficiente una notte di riflessione per far tornare il principe di Imapura a più miti propositi. Purtroppo una notte non era bastata e non lo erano stati neppure un giorno, una settimana e un mese. Val Mazzaro intendeva portare la sconfitta subita fino alle estreme conseguenze. I pettegolezzi che circolavano sul suo legame con Timira, l'amante, accusata di stregoneria, e di avere un forte ascendente su di lui, trovarono nuova linfa. Prova ulteriore dell'ormai insanabile rottura con gli altri due governatori fu la chiusura delle frontiere. Da quel momento in poi, nessun tulariano del centro e del meridione aveva potuto attraversare i confini delle alte terre, se non al rischio della vita. Inimmaginabile, al contrario, era stato l'esodo dei profughi dal territorio delle montagne. In centinaia avevano cercato riparo nelle zone libere di Tular e quei pochissimi che erano scampati alle sanguinose rappresaglie di Val Mazzaro avevano riportato notizie da far rabbrividire. La collera del principe di Imapura si era abbattuta sui templi e i santuari di Durgama, l'inaccessibile divinità della luce. Il fuoco aveva divorato le dimore terrestri del dio e i suoi sacerdoti erano caduti sotto la lama del boia. Inoltre, il fratellastro di Timira, Kaiman, il sacrilego sacerdote di Akumbaru, aveva avuto l'impudenza di evocare il dio del vuoto tenebroso. La divinità gli aveva concesso l'uso dei demoni mangiatori del sole, emersi dalle profondità delle caverne di Tamas, i quali si erano posti al suo servizio. Coloro che erano sfuggiti alle persecuzioni parlavano di un paese divenuto inospitale, prigioniero dei ghiacci eterni, precipitato nella caligine plumbea delle nebbie, dove non esisteva più legge, ma solo efferatezze, sopraffazioni e nefandezze d'ogni genere. Ancora una volta Sukar aveva peccato di ottimismo. Kaiman si era comportato in maniera opposta a quanto auspicava il signore di Advara. L'anima nera di Valmazzaro non si era accontentata del potere acquisito sulle alte terre e aveva allargato le sue mira all'intero territorio di Tular. Mania, signore di Akunigia, non aveva condiviso l'ottimismo del suo cognato Sukar. Il fratello di Anukah era stato prodigo di consigli, primo fra tutti quello di fortificare Advara, la città senza porte dei pescatori, sulle rive del grande lago Udaka e di sostituire le lenze con archi, spade e picchi a causa dell'imminente attacco dei Mandoan. La situazione di stallo era precipitata in poco tempo, con l'improvvisa ricomparsa in città di Rishigat, il saggio eremita della foresta del Teganan. L'atore di un messaggio celeste, l'Anacoreta, aveva sollecitato la convocazione straordinaria del Consiglio della Corona e preteso che l'invito fosse esteso anche al traditore Valmazzaro e al suo consigliere Kaiman. Nulla lo dissuase da quella che sembrava non solo una situazione imbarazzante, ma per certi versi inopportuna. Rishigat si era mostrato irremovibile. Avrebbe comunicato il suo messaggio solo alla presenza del Signore di Himapura e del suo degno accolito. La riunione straordinaria del Consiglio si era svolta pochi giorni dopo non nella sua sede abituale, la casa del popolo ad Acunigia, ma sulla riva occidentale del Grande Lago, in un luogo all'aperto e qui distante dalle tre grandi città di Tular, Advar a sud, Acunigia ad est e Himapura a nord. Un silenzio gravido di tensione aveva accolto l'arrivo di Valmazzaro e di Kaiman, accompagnati dalla sola Timira, senza alcuna scorta di armati, proprio come aveva preteso Rishigat per ciascun partecipante alla riunione. La presenza della strega aveva suscitato grande curiosità. Fino ad allora nessuno l'aveva mai vista di persona e Sukar aveva dovuto ammettere che si trattasse davvero di una donna affascinante, dal corpo flessuoso e sensuale, dai capelli color fiamma e dagli occhi dorati e penetranti di un felino. Il tempo dell'attesa era stato breve. Gli ospiti indesiderati si erano appena accomodati sui morbidi cuscini di velluto vermiglio distribuiti a semicerchio che sul proscenio erboso era comparso Rishigat. L'anacoreta, coperto di un candido lino allacciato sui fianchi e con l'immancabile flauto tra le mani, aveva attraversato a passo lento lo spazio aperto tra la sponda del lago e i consiglieri riuniti. Si era arrestato di fronte al sacerdote di Akumbaru, abbigliato a sua volta da un semplice saio grigio con il cappuccio calato sugli occhi. Rimanevano in vista soltanto il naso aquilino e la fessura della bocca atteggiata una smorfia di scherno. La voce del vergente si era levata nitida nel silenzio improvviso calato sull'assise. «Sono Rishigat, il custode della profezia», aveva esordito con voce grave. «Durgama, l'inaccessibile, esige che la verità venga divulgata ai quattro angoli del paese. Il figlio dell'aquila è già nato». Rishigat aveva fatto una pausa, in attesa che le sue parole venissero recepite in tutta la loro chiarezza. Poi si era rivolto al sacerdote di Akumbaru e aveva levato il dito ossuto contro di lui. «Attento, Caiman, nero messaggero del falso dio, la spada di luce pende già su di te. Quando il figlio raggiungerà la maggiore età, egli ti ricaccerà nelle fiamme dell'inferno dal quale sei stato vomitato». Al termine del breve discorso, Rishigat non aveva atteso i commenti. Volte le spalle all'assemblea, si era dileguato nella selva circostante. Caiman era scattato in piedi, seguito da Val Mazzaro e Timira. «Siete degli idioti incoscienti se pensate di dare ascolto alle parole di un folle che si crede investito dalle potenze celesti!» aveva attuonato fuori di sé, agitando al cielo le braccia. «La collera di Akumbaru si abbatterà su di voi e sulla vostra progenie, prima che possiate poggiare la testa sul cuscino e attormentarvi!» L'adirato sacerdote si era allontanato dal luogo del raduno con i due compagni, senza che nessuno avesse l'ardire di fermarli. La bruma improvvisa, esalata dalle acque immote del lago, li aveva inghiottiti, facendone perdere le tracce. L'assemblea di notabili tulariani si era sciolta in un'atmosfera di inquietudine. Le parole di Caiman erano state come macigni e avevano colpito l'immaginazione dei presenti con più forza della speranza di futura riscossa fatta trapelare da Rishigat. Sukar non aveva perso tempo. Tornato ad Advara, aveva ammassato su un carro lo stretto necessario. Poi, con Anukai, figli Kaime, Kalina e il nipote Mengui, era partito alla volta di Hailya, con l'intenzione di affidare i ragazzi al vecchio saggio del Teganan e di ritornare al più presto in paese per organizzare la difesa, non più procrastinabile delle basse terre. Padre, stanno calando le prime ombre della sera. Siamo ancora lontani dalla meta. Sukar ebbe un sobbalzo nell'udire la voce di Kaim, alzarsi stridula per sovrastare il frastuono delle ruote. Indispettito per avere dovuto abbandonare le sue considerazioni mentali, si volse a scrutare il figlio, quasi per percepirne i primi segni della paura. Fu quasi stupito, invece, nel cogliere sul volto del ragazzo l'ombra di un sorriso. Kaim era solo stanco e non vedeva l'ora di arrivare qualunque fosse la destinazione. Sukar si rivolse alla moglie. «Come mai abbiamo rallentato? I cavalli sono esausti, sono ore che corrono a perdifiato», rispose lei detergendosi con la manica del vestito il sudore sulla fronte. L'uomo non fece obiezioni. «Ormai dovremmo essere vicini alla meta», commentò con un senso di sollievo. Mentre tornava a volgere lo sguardo alla natura circostante, si rese conto che Kaim aveva ragione. Sotto la cupola degli alberi del Teganan, i raggi del sole al crepuscolo faticavano a filtrare tra le fronde e l'oscurità stava gradualmente prendendo il sopravvento. Si levò la voce sorpresa di Kalina. «Cosa sono quelle strane ombre biancastre che ci seguono?» Le fece eco la risata di Mengui. «Sono gli spiriti del bosco che vengono a succhiarti via! Lo sai, hanno un debole per le bambine!» «Non è vero?» strillò lei in tono lacrimoso. «Finisci la Mengui, non spaventare tua cugina!» Lo rimproverò Annucca. Kaim abbandonò per la prima volta la posizione che aveva occupato fino a quel momento. Con passo traballante per ammortizzare gli scossoni del carro, si accostò alle spalle di Sukar. «Padre, Kalina ha ragione!» gli bisbigliò all'orecchio per non farsi sentire dagli altri. «Qualcuno ci sta seguendo!» L'uomo reagì con prontezza. Strappò quasi le redini dalle mani della moglie e lanciò una serie di grida per incitare i cavalli a un ultimo sforzo. Quando vide il carro riprendere velocità, riconsegnò le redini ad Annucca, prese in mano l'arco e incoccò una freccia. Per un attimo incrociò lo sguardo della compagna. Annucca era pallida e visibilmente spaventata, ma neppure per un istante volle rinunciare alla responsabilità della guida. Ancora una volta Sukar pensò che le parole di incoraggiamento non sarebbero servite a nulla. Annucca era una donna forte e mai avrebbe mancato ai suoi doveri. Si guardò alle spalle e gli bastò un'occhiata per rendersi conto che Caim aveva visto giusto. Un folto drappello di cavalieri procedeva sprombattuto sul sentiero alle spalle del carro. Non ebbe dubbi sull'identità degli inseguitori. Le ampie palandrane grigie gonfiate dal vento e i cappucci calati sul volto non si prestavano equivoci. Erano i senza faccia, gli odiati Mando Han, gli adoratori del falso Dio, creature delle tenebre che la luce del sole rendeva quasi evanescenti. Le loro fisionomie indistinte, pressoché incorporee, non lasciavano intendere cosa si celasse dietro i loro volti, come se sotto i cappucci non ci fosse altro che il vuoto. L'oscurità, al contrario, dava luminescenza alle loro fattezze scheletriche, sottolineando il carattere alieno dei loro spaventosi denti a sciamola. «Vai, Hanukkah, mantieni questa velocità, presto!» Nell'urlare quest'ordine, Sukkar cercò di mantenere ferma la voce. Poi, accortosi che Caim era ancora in piedi alle sue spalle, gridò, «Va a sederti in fondo al carro e controlla che tua sorella e Mengui stiano al riparo!» Caim si affrettò a ubbidire. Si avviò rasente la fiancata, cercando di mantenersi in piedi e sorreggendosi con le mani ai bordi. Era giunto a metà del cammino quando una delle ruote anteriori urtò una roccia affiorante nel terreno. Parte del carro sembrò librarsi in aria. Per il brusco contraccolpo, Caim perse l'equilibrio e l'improvviso ritorno in piano della ruota lo fece letteralmente volare oltre il parapetto. Il grido di terrore del ragazzo fu sovrastato dal frastuono della corsa. Il volo si concluse sul fogliame del sottobosco, un impatto duro ma non rovinoso. Per forza d'inerzia il corpo di Caim precipitò rotoloni lungo il fianco ripido della collina, rimbalzando sugli affioramenti rocciosi. Rimbalzando sugli affioramenti rocciosi, schiacciando cespugli e arbusti, urtando più volte la testa contro radici e rami, finì la sua corsa in una forra nella zona più impervia del bosco. Era notte fonda quando Caim iniziò a riprendere conoscenza. Ma prima ancora di recuperare l'uso completo dei sensi, cercò di stabilire la natura di quelle bizzarre sensazioni che avvertiva sul viso. Era come se più di una lingua umida e rasposa si ingegnasse a leccargli le guance, la fronte e i capelli. Spalancò gli occhi e subito scattò a sedere per la sorpresa. Sei lupacchiotti lo avevano circondato uggiolanti ed eccitati. Quasi senza rendersene conto, prese ad accarezzarli e a giocare con loro, lasciandosi mordicchiare le dita, le braccia e perfino il naso. Uno dei cuccioli in particolare sembrava divertirsi un mondo. Quando partiva all'attacco, prima gli lambiva la mano con una leccatina, quasi per avvertirlo che non faceva sul serio. Poi gli si gettava addosso a zanne e sguainate cercando di morderlo ovunque gli capitasse. Da qualche tempo però Caim giocava senza partecipazione. Due pensieri avevano cominciato a roderlo come talli. Che ci faceva in quella tana? Come avrebbe giustificato la sua presenza ai lupi adulti quando fossero tornati dalla caccia notturna. Forse avrebbe fatto meglio ad allontanarsi prima che fosse troppo tardi. Con uno sforzo cercò di rimettersi in piedi ma non ci riuscì. Sembrava che le forze lo avessero abbandonato. Preoccupato pensò che forse avrebbe fatto meglio a riposarsi ancora per qualche minuto prima di ritentare. Tornò a sdraiarsi sul terreno con gli occhi chiusi e in quello stato di dormiveglia che precede il sonno sentì i lupacchiotti accucciarsi accanto a lui. Uno di essi si arrampicò persino sul suo petto. Non era certo che fosse il giocherellone di prima ma non ebbe modo di appurarlo perché quasi subito crollò in un pesante sogno senza sogni. Appena le prime luci dell'aurora filtrarono tra le rocce a rischiarare il gruppo di dormienti nella gola ricoperta di vegetazione Caim si ridestò di soprassalto. Il sangue gli si era gelato nelle vene. Il suono cupo di un ringhio aveva cancellato in un colpo solo le nebbie del sonno. Il lupacchiotto che ormai lo aveva scambiato per un comodo giaciglio gli sbadigliò in faccia senza ritegno. Si sollevò di scatto sui gomiti nello scorgere sul limite della forra la robusta mole di un lupo dagli occhi che parevano braci ardenti. L'animale avanzò ad agio verso di lui a zanne scoperte ma prima che il predatore potesse avventarsi il cucciolo balzò giù dal petto di Caim andando a frapporsi ringhiando tra il carnefice e la vittima predestinata. Lo sconcerto del lupo adulto fu di breve durata. Improvvisamente comparve un altro animale, una femmina flessuosa dal candido pelame e gli occhi di un'incredibile celeste che si precipitò all'ambire con rapidi colpi di lingua il muso del lupacchiotto. Questa volta fu Caim a chiedersi se lo spavento provato un attimo prima non gli avesse fuso il cervello. Era naturalmente impossibile ma sembrava che la lupa non solo comunicasse a parole ma addirittura in maniera comprensibile. Ben fatto Cord hai più sale in zucca tua tre mesi che tuo zio Svan in tutta la sua vita. Fece rivolta al lupo adulto che la fissava con un'espressione di vergogna quasi comica su quel muso così truce e feroce. Possibile che non ti sia accorto che il nostro ospite è ancora un cucciolo? Svan sembrò recuperare ad un tratto la sua dignità. Non mi fido dei sangue dolce nemmeno da piccoli borbottò rinculando ad agio verso l'uscita. La lupa bianca non fece commenti. Aveva il suo da fare per rispondere alle effusioni dei cuccioli che le saltellavano intorno guaendo e latrando. D'un tratto ebbe un conato di vomito ed eruttò una poltiglia di carne ragrumata che i lupacchiotti affamati fecero sparire in un batter d'occhio. Finalmente dopo aver sfamato i cuccioli si rivolse a Caim rimasto immobile nella sua posizione senza saper bene cosa fare. Benvenuto piccolo. Sono Aisha, la compagna di Gor, il capobranco. Come mai sei capitato qui? La domanda sembrò cadere nel vuoto. Il ragazzo rimase a fissare l'animale con espressione sconcertata senza dare la sensazione di avere udito le parole della lupa. Aisha scrollò la fiera testa sospirando. Ma perché tento di comunicare con te? Gli umani non conoscono il linguaggio dei lupi. Che sciocca! scusa balbettò il ragazzo. In realtà ho capito ciò che hai detto anche se mi meraviglia sentirti parlare come noi. La lupa lo fissò col rinnovato senso di rispetto. Non parlo come voi umani. È la tua mente che percepisce e decodifica le parole il mio modo di comunicare. Come ti chiami? Caim, figlio di Sukkar. Benvenuto, Caim. E si interruppe per vagliare il pensiero ballenato lei in mente. Quando riprese a parlare aveva un tono di voce quasi riverenziale. Forse sei proprio tu l'oggetto della profezia, il figlio dell'aquila, colui che ha il compito di liberare Tular dagli spiriti malvagi. Caim, che non aveva mai udito parlare di alcuna profezia, si mise quasi a ridere. Sono soltanto un ragazzo. Aisha non replicò. Pensò solo che il cucciolo umano avesse ragione e poi non fosse compito suo rivelargli i termini della profezia. Ci avrebbe pensato qualcun altro. Gli chiese allora come fosse capitato dentro la forra, in quell'angolo di bosco mai calpestato da piede umano. Caim le raccontò che era in viaggio con la sua famiglia quando erano stati attaccati da un drappello di uomini incappucciati senza volto. Ti prego, Aisha, aiutami, implorò il ragazzo. Devo raggiungerli. Mi staranno cercando. Mio padre e mia madre saranno in pensiero per me. Aisha non rispose. Preferì concentrarsi nel fare toletta ai piccoli, che però non davano l'impressione di gradire troppo le attenzioni della lupa. Non volevano lasciarsi ristogliere dai loro giochi. Non temere di dirgli la verità. Caim si volse verso l'ingresso della forra, dove era apparsa l'ombra di un lupo gigantesco, ben più di Svan che pure gli era parso enorme. Senza volerlo fece un passo indietro, addossandosi spaventato alla parete rocciosa. Il ragazzo deve sapere che il tempo dei giochi è finito e che la vita non è sempre un divertimento. La lupa bianca guardò prima il compagno poi Caim, si avvicinò al ragazzo e gli lambì una mano. «Gor ha ragione, devi sapere». In breve lo mise al corrente dell'eccidio avvenuto davanti ai loro occhi. I demoni senza volto non avevano avuto pietà per nessuno, nemmeno dei più piccoli. Li avevano trucidati e decapitati e si erano portati via le teste dei bambini. Aisha continuò a narrare tali crudeltà sentendosi il cuore scoppiare d'angoscia nel vedere le lacrime silenziose scorrere sul volto del ragazzo, ma non volle tralasciare alcun particolare della strage. Fu Cord, il primo ad abbandonare i giochi con i fratelli e ad accostarsi a Caim. Gli posò le zampe sul petto e prese a leccargli la faccia. Il ragazzo accettò le effusioni del cucciolo, lo strinse tra le braccia e si lasciò andare al pianto. Dopo qualche tempo sembrò calmarsi. Tirò su con il naso prima di rivolgersi a Gor, rimasto in silenzio ai margini della forra. «Mi accompagneresti lassù?» Caim fece un gesto con la mano per indicare la sommità della collina. Il grosso lupo grigio abbassò la testa in segno affermativo, girò su se stesso e si inerpicò lungo l'erta tra i cespugli di ginestrone seguito da Caim. Con la coda dell'occhio vide che anche Cord gli stava dietro, tuttavia non aveva potuto fare più di un passo fuori della forra prima di essere afferrato per la collottola. «Dove vuoi andare tu?» finghiò Isha. «Sei troppo giovane per simili avventure». Quando il ragazzo e il lupo raggiunsero il luogo dell'eccidio, una radura erbosa ai margini della foresta, si trovarono di fronte a una scena ben peggiore di quella che aveva immaginato Caim. I corpi di Anukah e Sukar giacevano poco lontano dal carro, nelle pose innaturali della morte. Suo padre doveva avere opposto una strenua resistenza. Era morto con la spada in pugno e fu una magra consolazione per il ragazzo vedere che la lama era insanguinata, segno evidente che aveva riso cara la pelle. Col cuore stritolato nella morsa di un'angoscia mai provata, si mise alla ricerca dei corpi senza vita, di Calina e di Mengui. Li trovò poco distante, semi sepolti sotto i rottami del carro e delle casse che avevano contenuto i pochi averi della famiglia. Alcuni capi d'abbigliamento, stuoi e coperte per difendersi dai rigori notturni. Alcune derrate alimentari, soprattutto cereali, sacchetti di riso, pesci sotto sale, frutta. Il tutto gioceva sparpagliato sul terreno nel raggio di una decina di metri. Caim si guardò intorno per vedere dove fossero finiti i cavalli. Non ne vide traccia. Forse erano riusciti a scappare o più probabilmente erano stati catturati dai mandoan. Il ragazzo tornò presso il cadavere del padre, cercando di non guardare le orribili ferite che ne deturpavano il corpo. Gli sciolse la fascia con il fodero della spada e se la cinse sui fianchi. Dovette fare un doppio giro intorno alla vita per potersela allacciare. Di botto rammentò un oggetto che gli apparteneva. Ritornò presso il carro e si mise a rovistare tra le tristi macerie sparse sull'erba. Trovò subito quanto cercava. Un pugnale dalla punta di curva, il manico in avorio intarsiato con il simbolo di un rapace dalle ali spiegate che suo zio Mania gli aveva donato in occasione del suo ultimo compleanno. Se lo infilò nella cintura. Era l'unico oggetto che avrebbe portato con sé. Il resto non gli sarebbe servito. Non aveva più famiglia né casa e avrebbe dovuto sopravvivere con le sue forze. Non rimaneva che adempiere all'ultima triste incombenza. Poi non c'era che affidarsi alla misericordia di Durgama. Con un sospiro di rassegnazione, ammucchiò al centro della radura i rottami del carro e i resti delle masserizie. Vi aggiunse alcune fascine di rami secchi raccolti nella foresta, così da formare una pira. Uno dopo l'altro vi depose i cadaveri dei suoi cari, compito gravoso, svolto con l'aiuto dello stesso Gor, specialmente quando gli era toccato di trascinare il robusto corpo del padre. Ansante e madido di sudore, concluse la sua fatica. Era venuto il momento di accendere la pira. Le scintille provocate dallo sfregamento di due rametti raggiunsero le foglie secche. La lieve brizza che ispirava nella radura alimentò le lingue di fiamma che andarono a lambire i ligni stagionati. La catasta prese subito fuoco. In moto, chiuso in un silenzio meditativo, Caim assistette alla mesta cerimonia di cremazione. Al termine girò le spalle al rogo che andava consumandosi e si incamminò con lo spadone del padre strusciante sull'erba verso Gor in attesa ai margini del bosco. Raggiuntolo si volse indietro a guardare il fuoco della pira che stava estinguendosi. «Che intendi fare adesso?» domandò il grosso lupo grigio. Caim volse il capo per fissare l'animale dritto negli occhi. «Devo vendicare la mia famiglia», dichiarò con un tremito nella voce. «Non dire sciocchezze, piccolo umano. Gli assassini di tuo padre farebbero di te un sol boccone. La vendetta è una pietanza da gustarsi fredda». «Che vuoi dire?» «Voglio dire che per ora il tuo compito è quello di prepararti alla vendetta. Devi crescere, irrobustirti e soprattutto devi imparare a combattere». Caim lo guardò con espressione attonita. «Cosa suggerisci?» «Per ora non puoi fare nulla. È necessario aspettare tempi più propizi». «Ma non posso tornare ad Advara. Infatti non è lì che devi andare. I tuoi nemici ti credono morto. Non sanno che Mengui era tuo cugino. Potresti avere un vantaggio su di loro». Caim lo guardò sconcertato. Quel lupo sapeva troppe cose. «È vero», fu costretto ad ammettere. «Penseranno di aver massacrato l'intera famiglia di Sukkar. Già, e in questo modo la profezia non verrebbe intaccata». Ancora una volta Caim restò interditto. Quel lupo non cessava di stupirlo. «Mi credi anche tu il figlio dell'aquila?» Gor scrollò la grossa testa. «Non lo so. Lo vedremo tra qualche anno, non credi? Adesso è necessario tenerti in vita. Quindi è meglio che non te ne vada in giro da solo nella foresta, anche se possiedi quello spadone. Anzi, se vuoi un consiglio», continuò Gor con aria beffarda, «sotterralo da qualche parte. Per ora non ti serve. Lo riprenderai tra qualche tempo, quando si rivelerà necessario. Io e il mio branco saremo in grado di difenderti anche senza quello spiedo». Caim considerò per un istante le parole del lupo, ma non trovò obiezioni da opporvi. Senza fare commenti, adocchiò una roccia affiorante poco distante dal punto in cui si trovava. Gli parve un buon nascondiglio. Rapidamente fece quanto gli aveva suggerito Gor. Poi, senza il peso del fodero e della spada, ma con la fascia rossa di Sukkar e il fido pugnale nella cintura, si predispose a seguire il grosso lupo grigio, nel fitto del bosco.